giornata tipica la mattina buongiorno Doria andiamo buongiorno forza un bacetto vai gira gira la coda ovviamente c'è i suoi legnetti un sull'estero ok la stanza è pulita già a dopo e si esce un buongiorno quando è contendo doria d'accordo a dopo si parte sta sderannocchiando i legni evidente che sono importanti per lui nell'attesa andiamo il nostro equipaggiamento che consiste nel trispolo e nella borsettina eccoci qua e lui inizierà a fare i primi voli vai Dorian vai come avete visto il primo volo lui lo fa parte da solo da la pata pronto vai 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 dopo di che lui piace giocare uno uno vai ti affettuoso baciate vai baciate affettuoso ancora uno un baciate un bacio un bacio un bacio un bacio un bacio un bacio non te la voglio dare e fai e dai fai show the wings show the wings saluta ciao Doria ciao sciogli la chat sciogli la chat oppure R Här tanto contento che succede togli la chat e poi facciamo parte bravo strizza di fai D'accordo, dai la pata, dai la pata, bravo, bacetto, vai, e ce ne andiamo a casa. Nel frattempo che io smundo questo qui, noi arriviamo a casa, qui gioca con i legnetti, guarda, ce ne ha tantissimi là dentro, questo trespolino qua, ecco, e si accorcia, ciao, ciao, così, e questo si chiude così, rimane questo, è pratico e veloce, e d'accordo. Acqua? Acqua io. No. No. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti